Musica Salve a tutti sono Mr.Antonieto e oggi facciamo una missione importante Il portale per la costa di Hook Che ci servirà per andare avanti Anche perchè altre missioni non ne abbiamo Cioè si ce le abbiamo ma non ci voglio di farle Quelle terze aree di bronzo Proprio non ci voglio di farle Per cui Adesso ci è rimasto solo questo da fare Per ora Dopo più avanti se ne sbloccheranno un paio Minffe del cazzo Non si inquadrarlo Ok ci dobbiamo essere Sì esatto ci siamo Allora attiva la porta Callis Devi raggiungere la porta Callis nel cuore di Darkwood Va bene La porta si aprirà solo quando la sua fame di anime non morte sarà placata Ok Che rottura di cazzo adesso Ok Allora 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 Ok, siete cercati, un po' ancora uno, un combo rallenta un po' più quella cazzo di maglielli del cazzo, non so come si chiama, non mi ricordo più, dovremmo essere alla costa di Hook, devi trovare l'abbazia in rovina, va bene, guardia, qui ci sono i stessi regolamenti che ho, non puoi sentire fuori le armi se no vi danno a volta, qua vengono una runa o due potenti, ho esperienza o vita o cosa, ma costano tipo l'ira di dio, per cui non conviene, andiamo avanti, fiero, si gratta la testa, si trova bella come si comporta, prima quella barriera magica non c'era, ma dai, ciò spiega quello che ho appena visto alla Gilda, vediamoci negli alloggi di Dedalo, ho un libro che potrebbe aiutarci, va bene, vediamo la Gilda, ok, devi andare negli alloggi di Dedalo, si si, sta succedendo, madre, chissà cosa è successo, gli errori, il libro, non dimenticare il libro, va bene, hanno già ripreso nostra madre, la tammaturgia di Arpan, mi scrive le magie e i ricordi dimenticati dalla fossa B, per cui potremmo credere di stabilizzare i tempi di forza, è scritto una lingua calma, che non ho deciso di fare, forse mi sono regito a pollicare, ok, ho una carta missione da parte di tua madre, vento, vieni alla stanza della mappa a parlare con me, ok, il video di oggi finisce qua, lasciatemi mi piace, commentate e al prossimo video, che forse sarà un pochettino tanto lungo.